Si chiama Sala Acquaria, collocata al secondo piano del Tribunale di Varese ed è riservata alle fasce deboli, vittime di violenza. A comunicarlo è il Procuratore della Repubblica, Antonio Gustapane, il quale indirizza così uno spazio protetto e discreto a vittime di soprusi e violenze che intendano denunciare quanto subito. A partire dal 22 luglio la stanza in questione sarà aperta lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 11 alle 12, e vedrà sul posto l'ispettrice di polizia Silvia Nanni, pronta a ricevere la denuncia, inserire i dettagli nella banca dati Interforze e attivare gli interventi necessari per garantire le dovute tutele. Il servizio è pronto ad accogliere anche coloro che si rivolgono alla Casa della Nutrice.